Sì, guarda, penso anche che sarà pilotecnico, o più che altro quando attaccherai la spina alla corrente farà tante scintille, tanti colori e TAAANTO rumore! Anzi, visto che siamo vicini alle feste di Natale, se vuoi lasciare i tuoi amici senza parole, montalo in balcone il 31 dicembre e attacca la spina a mezzanotte. Risultato garantito! Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia e no, non sono a bordo della mia auto. Di nuovo vi ho intrattenuto il giovedì pomeriggio per dodici puntate e raccontandovi le mie peripezie facendo questo lavoro. Calmatevi e non sbraitate tutti assieme! Ancora non sono andate in onda tutte e dodici le puntate, lo so, però siccome ho tante novità per le feste, ho pensato di fare una prima parte di questo finale di stagione adesso. Ma questa volta ho avuto anche la possibilità di mettere in cantiere tante piccole sorpresine. La prima, che come vedete porto addosso, in realtà la portiamo tutti, anche il cameraman Marco e il fonico Andrea. È la felpa ufficiale di Vita da Tecnico, che troverete, assieme alle magliette, alle tazze, alle custodie per cellulare e a tutti gli altri gadget, sul mio negozio Spreadshirt, che vi lascerò linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Naturalmente non manca il fratellino di Alexander, l'orsacchiotto ufficiale della serie, disponibile per tutto dicembre in edizione natalizia, oppure se preferite c'è anche una simpaticissima renna, in offerta al prezzo speciale di 18€ più spedizione. Innanzitutto ci tenevo a dire a tutti voi grazie. Grazie veramente dal profondo del mio cuore per tutto il supporto che mi avete dato e ci avete dato sino ad ora. Noi, e quindi – spero anche voi – ci siamo divertiti tantissimo durante la realizzazione di questa stagione, e questo mi permette di dire che sì, ci sarà anche una terza stagione di Vita da Tecnico. Però stavolta dovrete aspettare un pochino di tempo, ho tante idee che mi frullano per la testa. Una di queste è un nuovo format a cui stiamo per cominciare a lavorare e che ci porterà via un po' di tempo. Come sapete, il mio canale non si ferma mai, e quindi non mi fermo neanche io. Nel frattempo vi segnalo l'apertura del mio canale Telegram ufficiale. A partire d'oggi troverete il link sul doobly-doo di ogni mio video, e quindi potete iscrivervi al canale e in questo modo riceverete – direttamente sul vostro dispositivo – una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video o che voglio segnalarvi qualcosa. Tra l'altro vi ricordo di seguirmi su Twitter e su Telegram – anche i miei link social sono sul doobly-doo – perché in qualsiasi momento potrei lanciare dei coupon sconto su Spreadsheet o su altre piattaforme che sponsorizzeranno proprio usando quei canali. Inoltre io sono molto attivo su Twitter. Ora Vita da Tecnico si prende una breve pausa, speriamo di ritornare entro l'estate, perché come vi dicevo nel frattempo stiamo preparando tantissime novità. Per cui, se volete essere sempre informati sulle novità, non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube e di seguire il mio canale Telegram. È gratuito e vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Bene, noi ci vediamo giovedì con l'ultima puntata di Vita da Tecnico, ma anche giovedì prossimo con la seconda parte di questo finale di stagione. Naturalmente ogni domenica, sempre con Diario di Viaggio on the road e… iscrivetevi al canale Telegram, anche lì ci saranno delle novità durante le feste. Bene, io sono Grizzly, ciao a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!